Ciao, sono Troide Clure Oh mio Dio, hanno ammazzato Kenny! Pronti bastardi! Non lo riesco a aprirlo Dove cazzo? Oddio Brava Violetta, ti sei fatta una strisciata indiana sotto l'occhio I miei capelli ballano il twerking Ciao Non vi prendete paura, eh? Sono struccata Ho una conciatura molto sexy Ma non fateci caso L'importante sarà quello che vi dirò Vi consiglio di andarvi a prendere un goccio di latte E dei biscotti Pubblicità assolutamente occulta Perché io adesso comincerò a sproloquiare alla grande E dirò che un sacco di c***a Così tanto per gradire Non lo so Per rendere più piacevole quest'ora e mezza di video Potreste sgranocchiare qualcosa Allora, come state? Vi siete ripresi da questa fantastica notte degli Oscar? L'avete vista? Perché io non l'ho vista Perché non ho Sky Solo dopo che è stata fatta la notte degli Oscar Ho scoperto che si poteva seguire in streaming Però mi sono andata a leggere chiaramente tutti quanti i risultati E oggi parleremo proprio di questo Che coglioni Qualcuno di voi me lo ha chiesto Io me so subito sentita un portante Ho detto Ma se dai ci faccio un video In realtà la mia opinione riguardo agli Oscar Diciamoci la verità Conta come il due dei coppe quando regna spade Eh? O come spade quando regna bastoni Se dice a Roma Dice che vuol dire Vuol dire che non conta niente Ah Sì Mi rendo conto che la mia credibilità è peggiorata Anche dal fatto che c'è una busta di Ikea lì Vogliamo dire che c'è un po' di caos Sì Diciamolo Quindi fate un po' voi Se restate o no Io vi faccio sto monologo random Così perché ho bisogno di sfogamme su sti Oscar Sono più che altro curiosa di sapere la vostra opinione Se siete d'accordo con me Oppure se non siete d'accordo con me E i motivi per i quali magari non siete d'accordo Se magari avete visto un film che io non ho visto per esempio E mi volete dire se secondo voi è meritato di prendere l'Oscar o no Oppure chi se lo sarebbe meritato secondo voi Per quelli che erano in concorso che avete visto Insomma dialoghiamo Però boni State carni Ordinati Uno per volta Non se scannamo Siamo tutti una grande famiglia felice Perciò non facciamo i fratelli peluri eh Eh zitto A me taglio A me taglio Così Ma che che dichi Il pane ci metti nel No aspetta Non è così Qui a me mi piace un film A te ti piace Ma che sono deficiente Come? Se non ci piacciono gli stessi film Nessuno dei due è deficiente Ora magari io sono anche una deficiente Ma questo è a prescindere Da se mi piace o no Un film che a voi piace Io comincerei con gli argomenti più scabrosi Per esempio La grande bellezza Io a Sorrentino gli voglio una cifra bene Capito Paolo? Non ti preoccupare Però Paolo Devi anche accettare le critiche Voglio dire Ora non ho visto tutti gli altri film in concorso Per miglior film straniero Però Ce n'era uno Il sospetto Con Mads Mikkelsen Di Thomas Winterberg È un film danese Dieci volte superiore alla grande bellezza Provare per credere Allora perché non ha vinto? Perché la grande bellezza è effettivamente una grande bellezza Cioè nel senso è esteticamente, tecnicamente bellissimo Ben fatto, perfetto Fotografia da paura Inquadrature pazzesche Questa Roma stupenda Sono rimasta incantata Dalla bellezza della grande bellezza Però Manca qualcosa È un film Vuoto Ok Vuole essere vuoto Perché racconta di una società alto Borghese decaduta E quindi vuole essere vuoto Il problema è che non solo è vuoto Ma è anche inconcludente Frasi poetiche Musica ecclesiastica Inquadrature perfette Fotografia divineggiante Suori che si trascinano per le scale Benicotteri digitali e se vede Che volano sul Colosseo Questa sceneggiatura con queste frasi Un po' fatte? Chissà che mi sta dicendo Come sei profondo Paolo Poi va a finire Che lui è un uomo insoddisfatto e vuoto Che ritrova nel ricordo Del suo primo amore Il suo senso della vita Va bene Però Non mi hai detto niente di nuovo Gli americani secondo me Sono rimasti molto affascinati Da tutti questi effetti speciali all'italiana E ci hanno fatto vincere per questo Complimenti a Tony Servillo Che è sempre un gran signore E ha insultato pubblicamente Come ricordo solo Galeazzi Fece con la veniera anni fa Una povera giornalista Che ha osato criticare il capolavoro Pronto? Noi lo sentiamo Ci sente? No Stai grandissima Non voglio neanche spedere troppe polli Su questo argomento Perché ce ne sono state tantissime Però È un po' sopravvalutato questo film A me piace Sorrentino Ho visto molti film di Sorrentino E sono nettamente superiori a questo Preferisco dieci volte di più Le conseguenze dell'amore Parliamo di un'altra cosa Miglior attore protagonista Matthew McConaughey Perché? Perché? Il film è bello A me è piaciuto E sono molto contenta Che abbia vinto come attore Non protagonista Jared Leto Che è stato bravissimo Un ragazzo è veramente Fottutamente bravo Oltre che un feco da paura Ma questa è un'altra storia Non influenzerà il mio giudizio Ecco io non sono molto contenta Che abbia vinto Matthew McConaughey Christian Bale In American Astor È stato dieci volte più bravo E Leonardino pure Io gliel'avrei dato a Leonardino A sto giro Però Secondo me Hanno voluto premiare Un po' più le tematiche del film Ti pare che la giuria Degli Academy Awards Premia come miglior attore protagonista Leonardo Di Caprio In un film Molto 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 controverso Di Martin Scorsese Parecchio politicamente scorretto A me è piaciuto È fichissimo quel film Scorsese ha creato Due ore e mezza Di intrattenimento puro Leonardo Di Caprio È bravissimo Però Il caro Matthew Ha recitato in un film Sull'AIDS Che attacca anche le case farmaceutiche Voi mette Oscar a Matthew McConaughey Secondo me è così Lo dico io Te vedi Povero Leonardo Di Caprio Cioè pensateci Quei ragazzo Sono vent'anni Che si spacca il c***o Facendo ruoli importanti Sono anni che non è sbaglia uno O perché vanno da paura ai botteghini O perché sono veramente validi come il film Di Caprio c***o È uno coi contro con gli c***i È bravo E anche in Django Unchained Per me è stato bravissimo Doveva prenderlo l'Oscar al miglior attore non protagonista Dopo anni di interpretazioni notevoli Vedersi superare Da Matthew McConaughey Che fino all'altro ieri Ha fatto commedioni di scarso interesse Che fino all'altro ieri faceva Come farsi lasciare in dieci giorni Per carità divertentissima Però Quello Leonardo gli è preso un corpo Ma se stava sentì male sul tappeto Secondo me se avesse vinto Christian Bale Avrebbero sicato di meno Leonardo se fossi stata io al posto tuo E mi fossi vista passare davanti Matthew McConaughey Dopo che io ho fatto il Titanic La maschera di ferro The Beach Inception J.Edgar Prova a prendermi Revolutionary Road Django Unchained Shutter Island Il grande Gatsby Te giuro guarda L'avrei aspettato fuori da casa E gli avrei massacrato tutti i nani da giardino Mostruoso Leo I love you Che poi gli americani quanto gli piace Quando le head star si deformano Per interpretare i film Tu vedi che se ingrassi 300 kg Se ne perdi 400 Sei molto vicino a prenderti Sto Academy Awards Migliore attrice protagonista L'ha vinto Kate Blanchett Per Blue Jasmine di Woody Allen Meritatissimo A parte che il film è veramente fico Un po' sullo stile di sogni pelitti Ma meno cruento Però è una commedia amara diciamo Veramente meritato secondo me L'Oscar a Kate Blanchett Migliore regia da Alfonso Cuaron per Gravity E secondo me alla grande Sono strafelice Che poi ha preso tutti i premi tecnici Gravity Ha preso tipo 7 Oscar Ha preso migliore regia Migliore suono Migliore montaggio Migliore fotografia Ci ha preso un sacco di premi tecnici C***o La storia è bellissima È pazzesca Io pensavo che avrei visto un film Tipo che ne so Armageddon Invece non c'entra un tubero È una metafora della vita Ci sono delle simbologie pazzesche È bello 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 Ve lo dovete vedere Tra l'altro Cuaron Mica Pizza e Fiki È il regista del mio Harry Potter preferito Il numero 3 È il prigioniero di Azkaban E poi ha fatto anche un film stupendo Che si chiama I figli degli uomini Anche quello vi consiglio di vederlo Lui è un regista pazzesco Ci sta un piano sequenza Nei figli degli uomini Che ancora mi sto chiedendo Come c***o l'hanno girato Miglior sceneggiatura originale L'ha preso Hair Di Spike Jonzee Non vi dico niente su Hair Perché voglio fare una cine rubrica Apposta per Hair Perché è un film Tra i miei film preferiti In assoluto di sempre Spike Jonzee ha superato se stesso Miglior film d'animazione Quest'anno ha vinto un film Della Walt Disney Animation Studios Che è Frozen È il regno di ghiaccio Carino Carino Molto carino Delizioso È più una commedia musicale Perché ci sono veramente tante canzoni Di più che in Rapunzel Per esempio Però a me è abbastanza piaciuto E adesso ad aprile C'è il Romics Qui a Roma E io voglio troppo andarci Vorrei tanto vestirmi come Anna Di Frozen Però non so cucire Chi si offre di farmelo? C'è qualcuna di voi Che sa confezionare i vestiti E mi fa il costume di Anna Vi compro le stoffe Giuro Questa donna è pazza Bene Noi ci vediamo lunedì prossimo Con un nuovo video Vado vado Esco È tardi Ciao Ciao